«Il più bel delitto che io abbia mai commesso», soleva dire Flambeau nella sua moralissima vecchiaia, «fu anche per singolare coincidenza l'ultimo. Lo commesi a Natale. Come artista ho sempre cercato di intonare i delitti alla particolare stagione o paesaggio in cui mi trovavo, scegliendo questo giardino o quella terrazza per una catastrofe come per un gruppo statuario. Così i nobili di campagna dovrebbero essere truffati in lunghe stanze foderate di quercia, mentre gli ebrei, d'altro canto, dovrebbero trovarsi inaspettatamente senza un soldo tra le luci e i pavimenti del caffè Rich. Così in Inghilterra, se desideravo disbarazzare un decano della chiesa delle sue ricchezze, cosa che non è facile come potreste forse supporre, desideravo incorniciarlo, se dico bene, tra i tappeti verdi e le grigie torri di una cattedrale di provincia. Similmente, in Francia, quando avevo preso del denaro a un ricco e cattivo contadino, il che è quasi impossibile, mi piaceva vedere la sua faccia sdegnata stagliarsi sullo sfondo di una grigia linea di pioppi spuntati e di quelle solenni pianure della Gallia su cui aleggia il possente spirito di Milè. Ebbene, il mio ultimo delitto fu un delitto natalizio, un delitto cordiale, familiare, da borghesia inglese, un delitto alla Charles Dickens. Lo commise in una buona vecchia casa borghese nei pressi di Patney, una casa con un bel ingresso carrozzabile, una scuderia e il nome scritto sul cancello, una casa con una raucaria. Avete capito il tipo? Penso proprio che la mia imitazione dello stile di Dickens fu abile e letterario. È quasi un peccato che mi sia pentito quella stessa sera. Flambeau continuava allora la sua storia prospettandola dal di dentro, e persino dal di dentro essa era strana. Vista dal di fuori era assolutamente incomprensibile, però, ma è dal di fuori che un estraneo deve studiarla. Da questo punto di vista, si può dire che il dramma incominciasse nel momento in cui le porte d'entrata della casa con la scuderia si aprirono sul giardino dove era l'albero della scimmia, e una giovinetta uscì con del pane per gli uccelletti nel pomeriggio del giorno di festa dopo Natale. Essa aveva un volto grazioso, con begli occhi bruni, ma era difficile immaginarne la persona, perché era avvolta in una pelliccia bruna, e ugualmente difficile era dire del colore dei capelli e del pelo della pelliccia. Senza quel volto grazioso si sarebbe potuto scambiarla per un orsacchiotto che saltellasse a piccoli passi. Il pomeriggio invernale volceva al tramonto, e una luce di rubino già accendeva le uole spoglie, quasi colmandole degli spettri di rose morte. Da una parte della casa c'era la scuderia, dall'altra un viale, o pergolato, di lauri che conduceva a un giardino più grande dietro la casa. La fanciulla sparse le briciole per gli uccellini, per la quarta o quinta volta nella giornata, visto che il cane le mangiava, escese silenziosamente lungo il viale ed entrò in una lucente piantagione di sempreverdi. Lì se ne uscì in un'esclamazione spontanea o rituale di meraviglia, e levando lo sguardo all'alto muro del giardino lo vide singolarmente cavalcato da una fantastica figura. «Oh, non salti, signor Crook!» esclamò un po' allarmata. «È troppo alto!» L'individuo a cavalcioni del muro divisorio, come un cavallo aereo, era un giovane dall'alta statura, angoloso, con capelli bruni dritti come i crini di una spazzola e dai lineamenti intelligenti e persino distinti, ma di carnagione scura, quasi di forestiero. La tinta di quella speciale carnagione risaltava per una cravatta di color rosso vistoso, unica parte del suo abbigliamento di cui egli sembrava avver cura. Forse era un simbolo. Egli non vadò appunto all'arcomandazione della ragazza, ma saltò giù accanto a lei come una cavalletta, con il rischio di rompersi le gambe. «Penso che sono nato per fare il ladro», disse egli placidamente, «e non c'è dubbio che lo sarei se non mi fosse capitato di nascere in quella bella casa accanto. Comunque non vedo alcun male nel rubare». «Ma come potete dire delle cose simili?», lo ammonì la ragazza. «Che volete?», disse il giovane. «Giacché siete nata dalla parte opposta del muro, non vedo alcun male a dargli una scalata». «Non so mai quello che potete dire o fare», disse ella. «Spesso non lo so neppure io», rispose il signor Kruk. «Ma che importa? Sono dalla parte del muro giusta, ora». «E quale sarebbe la parte giusta del muro?», domandò la ragazza sorridendo. «Quella in cui siete anche voi». Mentre si avviavano insieme per il vialetto dei lauri verso il giardino davanti la casa, si udì tre volte la tromba di un automobile che si avvicinava sempre di più. E, infatti, un'automobile di grande velocità ed eleganza, color verde pallido, irruppe verso l'entrata della casa, fermandovisi palpitante. «Ehi, ei!», fece il giovane della cravatta rossa. «Ecco qualcuno nato dalla parte giusta, almeno. Non sapevo, Miss Adams, che il vostro babbo natale fosse così moderno». «Oh, quello è il mio patrigno, Sir Leopold Fisher. Egli viene sempre da noi il giorno di Natale». Poi, dopo una pausa innocente, la quale inconsciamente tradì una certa mancanza di entusiasmo, Ruby Adams aggiunse «Egli è molto buono». John Kruk, giornalista, aveva sentito parlare di quell'eminente magnate della City. E non era colpa sua se il magnate della City non aveva sentito parlare di lui, poiché in certi articoli del Clarion e di The New Age sarà parlato assai severamente di Sir Leopold. Ma egli non disse nulla e osservò con faccia scura lo scarico dell'automobile, faccenda che fu piuttosto lunga. Un grosso chauffeur vestito di verde, lindo, scese dalla parte anteriore della vettura e un piccolo domestico, pure lindo, ma vestito di grigio, scese dalla parte posteriore e, tra tutti e due, Sir Leopold fu depositato sulla soglia e svolto come un pacco con molta cura, confezionato e protetto. Coperte in quantità sufficiente per fornire un bazar, pellice di tutte le bestie della foresta e scialli e sciarpe di tutti i colori dell'arcobaleno gli furono tolti di dosso, finché alla fine apparve qualche cosa che assomigliava a una forma umana. La forma di un amichevole e vecchio gentiluomo, dall'aspetto di forestiero, con una barba grigia di forma caprina e un gran sorriso cordiale, il quale fregava l'un contro l'altro i suoi grossi guanti d'automobilista, foderati di pelo. Molto prima che questa rivelazione fosse completa, i due battenti della grande porta si erano già aperti e il colonnello Adams, padre della fanciulla impellicciata, era uscito a dare il benvenuto al suo ragguardevole ospite. Il colonnello era un uomo alto, abbronzato dal sole e molto silenzioso, con una papalina simile ad un fez che lo faceva somigliare a uno dei sirdari inglesi o a un pascià egiziano. Con lui c'era suo cognato, giunto da poco dal Canada, un grosso e alquanto rude gentiluomo campagnolo, dalla barba bionda e di nome James Blunt. C'era anche la meno cospicua figura del prete della vicina chiesa cattolica. Infatti, la defunta moglie del colonnello era appartenuta a tale religione e i figli, come spesso accade, vi erano stati allevati anch'essi. Tutto sembrava insignificante nel prete, financo il nome, che era Brown, eppure il colonnello aveva sempre trovato in lui qualcosa di socievole e lo invitava spesso a quelle riunioni familiari. Nel grande ingresso c'era tutto lo spazio per Sir Leopold e le sue sciarpe. In vero, tanto il portico che il vestibolo erano sproporzionatamente grandi in confronto alla casa e formavano, si può dire, una grande sala con la porta d'ingresso da un capo e lo scalone dall'altro. Davanti al grande camino, al di sopra del quale era appesa la spada del colonnello, si terminò la svestizione e la compagnia, compreso l'imbronciato crook, fu presentata a Leopold Fischer. Il venerabile uomo d'affari, però, sembrava ancora dibattersi fra i suoi complessi indumenti e, alla fine, estrasse da una tasca molto interna della giacca un nero astuccio ovale che spiegò con un sorriso raggiante. Era il suo regalo di Natale per la figlioccia. Con spontanea vanagloria, che aveva un che di disarmante, tirò fuori l'astuccio e lo mostrò a tutti. Lo aprì con un piccolo scatto e quasi gli abbagliò. Fu come se una fontana di cristallo fosse sorta dinanzi ai loro occhi. In un nido di velluto color arancio posavano, come tre uova, tre vividi e candidi diamanti che parevano accendere persino l'aria intorno. Fischer stava lì raggiante e benevolo a godersi lo stupore e l'estasi della ragazza, la grave ammirazione e i burberi ringraziamenti del colonnello e la meraviglia di tutto il gruppo. «Ora li rimetto a posto, cara», disse Fischer rimettendosi in tasca l'astuccio. «Ho dovuto stare molto attento nel portarlo qui. Sono i tre grossi brillanti africani chiamati le stelle volanti perché sono stati rubati molto spesso. Tutti i grandi delinquenti sono sulle tracce di questi brillanti che fanno gola anche ai malandrini della strada. Avrei potuto perderli venendo qui. Me li potevano rubare». «Sarebbe stato molto naturale, secondo il mio parere», borbottò il giovane dalla cravatta rossa. «Non avrei certo biasimato i ladri se li avessero rubati. Quando chiedono pane e voi non date neppure delle pietre, mi pare che abbiano il diritto di prendersele». «Non voglio che parliate così», esclamò la ragazza stranamente eccitata. «Voi avete incominciato a parlare così soltanto da che siete divenuto un orribile… come si dice? Voi sapete che cosa voglio dire? Come si chiama un uomo che vuole abbracciare uno spazzacamino?». «Un santo», disse padre Brown. «Credo», disse Sir Leopold con un sorriso sprezzante, «che Rubi intenda dire un socialista». «Radicale non vuol dire un uomo che vive di radici», osservò Kruk con una certa impazienza. «E conservatore non vuol dire un uomo che prepara conserve. Né vi assicuro socialista voglia dire un uomo che desidera trascorrere una serata in compagnia di uno spazzacamino. Socialista significa un uomo che vuole che tutti i camini siano spazzati e che tutti gli spazzacamini siano pagati». «Ma che non permette», aggiunse il prete a bassa voce, «che voi siate il proprietario della vostra fuliggine». Kruk lo guardò con uno sguardo di interesse e persino di rispetto. «Ma c'è della gente che vuole possedere della fuliggine?», domandò. «Può esservi», rispose padre Brown con occhio meditabondo. «Ho sentito che i giardinieri ne fanno uso e io una volta ho fatto felici a Natale sei bambini, quando Babbo Natale non veniva per loro con un po' di fuliggine applicata esternamente». «Oh, magnifico!», gridò Rubi. «Vorrei che lei facesse lo stesso a questa compagnia!». Il rumoroso canadese, il signor Blount, alzava la voce per applaudire e lo stupido finanziere alzava la propria per disapprovare, allorché si udì bussare alla porta d'entrata. Il prete andò ad aprire e apparvero nuovamente, attraverso il vanno dell'uscio, i semprevivi del giardino, l'albero delle scimmie e il resto che formavano un tutto sempre più raccolto e più bruno sullo sfondo di un magnifico tramonto violaceo. Quella scena su quello sfondo era così colorita e strana e somigliante allo scenario di fondo di una commedia che tutti dimenticarono per un momento l'insignificante figura apparsa sulla soglia. Era un povero diavolo in cattivo arnese e sporco, evidentemente un fattorino pubblico. «Chi è di loro il signor Blount?» domandò egli e porse esitante una lettera. Il signor Blount sussultò e interruppe il suo grido d'applauso. Stracciata la busta, con evidente sorpresa, lesse il biglietto e il suo volto si rannuvolò un poco, poi si rischiarò ed egli si volse al cognato e ospite. «Mi dispiace essere così noioso, colonnello», dissegli con modi spicciativi e cordiali all'uso coloniale. «Ma darei molto disturbo se una vecchia mia conoscenza venisse qui stasera per parlare d'affari con me. In verità si tratta di Florian, il famoso acrobata e attore comico francese. L'ho conosciuto anni fa in Occidente, era per nascita un francese del Canada e pare che abbia da proporme un affare che pure io non so in che consista». «Fai pure, fai pure», rispose il colonnello senza dare importanza alla cosa. «Caro mio, ogni amico tuo non può essere che un buon acquisto per noi». «Si tingerà la faccia di nero, intendi dire», esclamò Blount ridendo. «Non c'è dubbio che renderebbe facilmente neri gli occhi di tutti. Non importa, io non sono un raffinato. Mi piace la vecchia allegra pantomima nella quale si vede un uomo che si siede sul suo cilindro». «Ma non sul mio, prego», disse Sir Leopold Fisher con dignità. «Bene, bene», osservò Crook gaiamente. «Non bisticciamoci per questo. Vi sono degli altri scherzi più bassi di quello di chi si siede su un cilindro». L'antipatia che provava per il giovane dalla cravatta rossa, per le sue opinioni di predatore e per i suoi evidenti buoni rapporti con la graziosa figlioccia, fece dire a Fisher, nel suo tono più sarcastico e magistrale, «Senza dubbio lei ha trovato qualcosa di peggior gusto che sedersi sopra un cappello duro. Che cos'è, per favore?». «Starci sotto, per esempio», disse il socialista. «Su, su», esclamò il gentiluomo canadese con la sua barbarica bonomia. «Non sciupiamo questa bella serata. Io dico, facciamo qualcosa che diverta la compagnia questa sera. Non cenereremo le facce né siederemo sui cappelli duri se non vi piace, ma qualcosa del genere. Perché non organizziamo una vera vecchia pantomima, col pagliaccio, la colombina e così via? Ne vedi una quando lasciai l'Inghilterra a 12 anni e mi è sempre rimasta in mente, luminosa come un falò. Sono tornato a casa solo l'anno scorso e ho trovato che quel genere è estinto. Nient'altro che lacrimose favole. Io voglio un attizzatoio rovente e un poliziotto ridotto in salsicce e mi offrono principesse che disertano al chiaro di luna, uccelli azzurri o cose del genere. Preferisco barbablu e mi piaceva soprattutto quando si trasformava in pagliaccio». «Sono d'accordo a ridurre un poliziotto in salsicce», disse John Crook. «Ecco una definizione del socialismo migliore di alcune altre date di recente. Ma certo sarebbe una faccenda troppo complicata». «Per nulla!» esclamò Blount, entusiasta. «Una arlecchinata è la cosa più rapida da preparare, per due ragioni. La prima è che si può improvvisare finché si vuole e la seconda è che tutti gli oggetti necessari si trovano in casa. Tavoli, cavalletti per stendere gli asciugamani, catini e cose del genere». «È vero», ammise Crook approvando col capo e passeggiando per la stanza. «Ma ho paura che non potrò avere l'uniforme da poliziotto. Non ho ucciso poliziotti ultimamente». Blount meditò un momento, poi, battendosi la coscia, esclamò «Ma sì, ho qui l'indirizzo di Florian e lui conosce tutti i trovarobe di Londra. Gli telefono di portare un uniforme quando viene». «Oh, è splendido, padrino!», gridò Ruby quasi mettendosi a ballare. «Io sarò la Colombina e tu il pagliaccio!». Il milionario rimase rigido con una sorta di pagana solennità. «Penso, mia cara», disse, «che dovrei trovarti un altro per fare il pagliaccio. Lo farò io, se volete», disse il colonnello Adams, togliendosi il sigaro di bocca e parlando per la prima e ultima volta. «Si merita una statua», esclamò il canadese che tornava raggiante dal telefono. «Ecco, siamo a posto. Il signor Crook sarà l'altro pagliaccio. È un giornalista e conosce tutti i più antichi scherzi. Io posso fare l'arlecchino, dato che bastava avere le gambe lunghe per saper saltare. Il mio amico Florian ha detto che porta il costume da poliziotto e lo mette prima di arrivare. Possiamo fare la rappresentazione anche qui. Il pubblico troverà posto sullo scalone in fondo, disponendosi in file soprastanti. La porta sarà lo scenario, sia aperta che chiusa. Se è chiusa, ecco un tipico interno inglese. Se invece è aperta, un giardino illuminato dalla luna. Tutto perfetto, come per magia. E trovato si intasca un pezzetto di gesso da biliardo, tracciò sul pavimento una linea a metà fra la porta e la scala per indicare la ribalta. Come fu che in così poco tempo misero insieme un tal festino di paccottiglia, rimase un mistero. Ma vi si adoperarono tutti con quel miscuglio di impazienze e di attività che si ha quando in casa c'è la giovinezza. E la giovinezza c'era quella sera, anche se non tutti avrebbero saputo individuare i due volti e i due cuori da cui essa fiammeggiava. Come sempre succede, la fantasia si fece tanto più sbrigliata quanto più modeste erano le possibilità a sua disposizione. La colombina era deliziosa, in una rigida gonna che somigliava stranamente al grande paralume del salotto. I pagliacci si imbiancarono con la farina presa dalla cuoca e si tinsero con del rosso offerto da qualche altra domestica che rimase, come tutti i veri benefattori cristiani, anonima. L'arlecchino, già rivestito con la stagnola delle scatole da sigari, fu con difficoltà trattenuto dal fare a pezzi il vecchio lampadario vittoriano per ricoprirsi di splendidi cristalli. Lo avrebbe fatto se Rubi non avesse scoperto dei vecchi falsi gioielli da pantomima che essa stessa aveva portati allorché si era vestita da regina dei diamanti. Lo zio della ragazza, James Blount, stava per divenire pazzo, tanto era entusiasta ed eccitato. Pareva un monello. Egli pose inaspettatamente un cappello di carta in forma di testa d'asino su padre Brown, il quale lo sopportò pazientemente e, a sua volta, trovò persino il modo di muovere le orecchie. Blount si spinse al punto di tentare di appiccicare la coda d'asino di carta alle falde dell'abito di Sir Leopold Fisher, ma questi glielo impedì con un'occhiata severa. «Lo zio veramente esagera!» gridò Rubi a Crook, alle cui spalle ella aveva attaccato seriamente una fila di salsicce. «Perché è così pazzo?» «Perché è l'arlecchino di Colombina!» rispose Crook. «Io sono soltanto il pagliaccio che fa i vecchi scherzi!» «Vorrei che foste voi l'arlecchino!» disse ella e lasciò che il filo di salsicce dondolasse. Padre Brown, benché conoscesse tutti i particolari delle cose preparate dietro le quinte, e avesse meritato un applauso, trasformando un cuscino in un bambino da pantomima, girò sul davanti del palcoscenico e si sedette tra il pubblico con la solenne attesa di un bambino che assiste alla prima mattinè della sua vita. Gli spettatori erano formati da pochi parenti, da uno o due vicini e dai serbi. Sir Leopold sedeva in un posto davanti e la sua persona maestosa, come se indossasse ancora la pelliccia, nascondeva alla vista il piccolo ecclesiastico seduto dietro di lui. Ma non è mai stato deciso da autorità artistiche competenti se questi perdesse molto. La pantomima appariva assolutamente caotica, ma non del tutto disprezzabile. Era animata da un pazzo impeto di improvvisazione che veniva specialmente da Crook, il pagliaccio. Di solito egli era un uomo pronto, ma quella sera pareva addirittura ispirato a una folle onniscienza, folle però della follia più savia del mondo, che viene ad un giovane dal fatto di aver visto, per un istante, una particolare espressione su un volto particolare. Egli doveva fare il pagliaccio, ma in realtà faceva di tutto. Da autore, se si poteva dire che esistesse, da suggeritore, da scenografo, da macchinista e soprattutto da orchestra. Ogni tanto, durante la bizzarra rappresentazione, egli si lanciava in costume com'era al pianoforte e suonava chiassosamente qualche pezzo di musica popolare adeguatamente assurda. Il culmine della pantomima, come pure di ogni altra manifestazione, si ebbe quando, spalancati i battenti della porta in fondo alla scena, apparve il delizioso giardino al chiaro di luna e, fatto più importante, il famoso ospite, commediante di professione. Il grande Florian, vestito da poliziotto. Il pagliaccio al pianoforte suonò il coro poliziesco di Byretz of Penzens, ma fu soverchiato da un applauso assordante rivolto al grande comico, che con i suoi gesti formava un'ammirabile, misurata caricatura, del portamento e delle maniere di un policeman. L'arlecchino gli saltò addosso e lo colpì sull'elmetto, mentre il pianista stava suonando. «Dove hai preso quel cappello?» Il colpito si voltò con ammirabile e simulata sorpresa e l'arlecchino, con altri salti, tornò a colpirlo. Alla fine, l'arlecchino si lanciò nelle braccia del poliziotto e gli fu allora che lo strano attore diede esempio della celebre imitazione dell'uomo morto, lasciando fama in peritura a Patney. Era quasi impossibile, in realtà, credere che una persona viva potesse sembrare così inerte. L'atletico arlecchino lo gettò di qua e di là come un sacco, facendolo volteggiare come un clubbell, accompagnato dalle più folli e ridicole note del pianoforte. Quando l'arlecchino lo sollevò di peso per una mano da terra, il pagliaccio suonava «Malzo dall'averti sognato!» e quando se lo caricò sulle spalle, suonava «Col mio fardello in spalla!» e quando alla fine l'arlecchino lasciò cadere a terra con un ben persuasivo tonfo il poliziotto, il pazzo al pianoforte strimpellò furiosamente un motivo che si crede fosse la canzone «Mandai una lettera al mio amore, ma per via la lasciai cadere!» A questo punto di briosa anarchia e sbrigliatezza, la vista di padre Brown fu oscurata completamente, perché il gran duomo della city si alzò quanto era alto e si frugò nervosamente in tutte le tasche. Poi risedette, seguitando a frugarsi nelle tasche con la stessa nervosità e poi si rialzò di nuovo in piedi. Per un momento parve che si dovesse lanciare attraverso il palcoscenico, ma poi, gettato uno sguardo fulminante al pagliaccio che suonava, uscì di botto in silenzio dalla sala. Il prete osservò ancora per qualche minuto la danza assurda, ma non priva di eleganza che l'arlecchino dilettante faceva intorno al suo nemico del tutto senza conoscenza. Con arte schietta, seppur rudimentale, l'arlecchino danzò lentamente verso la porta del giardino, pieno di luce lunare e di quiete. L'improvvisato vestito di stagnola e di strass, che alla ribalta era troppo abbagliante, apparve più magico e argenteo, mentre scompariva danzando alla luce della luna. Il pubblico si abbandonava un diluvio di applausi quando Brown si sentì improvvisamente toccare il braccio e gli fu sussurrato di andare nello studio del colonnello. Il prete seguì perplesso l'uomo che lo aveva chiamato e la sua perplessità non fu fugata neppure dalla solenne comicità della scena che gli apparve nello studio. C'era il colonnello Adams, ancora vestito da pagliaccio, con l'osso di balena ondeggiante sulla fronte, ma i vecchi occhi tristi da spegnere qualsiasi orgia. Sir Leopold Fisher stava in piedi, appoggiato al cammino gonfio di importanza e di spavento. «È successa una cosa molto incresciosa, padre Brown», disse Adams. «Il fatto è che quei diamanti, che tutti abbiamo visto oggi pomeriggio, sono scomparsi dalla tasca posteriore del mio amico, e siccome lei…» «Siccome io…», suggerì padre Brown con un largo sorriso, ero seduto proprio dietro di lui. «Nessuno pensa una cosa del genere», disse il colonnello Adams con una ferma occhiata a Fisher, il che faceva ritenere che qualcosa del genere fosse stato pensato. «Le chiedo solo di offrirmi quell'aiuto che ogni gentiluomo può dare». «Che consiste nel rovesciarsi le tasche?», disse padre Brown, il che fece, mettendo in mostra sette scellini e mezzo, un biglietto di andate e ritorno, un piccolo crocefisso d'argento e una tavoletta di cioccolata. Il colonnello lo guardò un momento, poi disse «Sa che mi piacerebbe vedere quello che lei ha in testa più di quello che è in tasca. Mia figlia è dei vostri, ebbene, recentemente…» e si interruppe. «Recentemente», esclamò il vecchio Fisher, «ha aperto la casa di suo padre a un socialista a tagliagole che dice apertamente che ruberebbe qualunque cosa ad un uomo più ricco. Ecco, io sono l'uomo più ricco, anche se adesso un po' meno ricco». «Se vuole sapere quello che ho in testa, ecco», disse padre Brown con una certa stanchezza. «Potrà dire dopo che valore abbia, ma la prima cosa che trovo in questa tasca fuori uso è questa, che coloro che vogliono rubare dei diamanti non parlano di socialismo. È più probabile», aggiunse gravemente, «che lo denunciino». Tutti e due si voltarono bruscamente a guardarlo e il prete continuò. «Vedete, noi conosciamo questa gente più o meno. Quel socialista non ruberebbe un diamante più di quanto non ruberebbe una piramide. Dovremmo invece badare all'unica persona che non conosciamo, quel tipo che fa il poliziotto, Florian. Mi domando dove si trovi in questo momento». Il pagliaccio balzò in piedi e uscì dalla stanza. Seguì un intervallo durante il quale il milionario guardò il prete e questo lesse il breviario. Poi il pagliaccio ritornò e disse, staccando gravemente le parole, «Il poliziotto è ancora steso per terra sulla scena. Il sipario si è elevato e abbassato sei volte, ma lui è ancora là». Padre Brown lasciò cadere il suo libricino e rimase con gli occhi fissi, come se avesse la mente smarrita. Ma poco a poco i suoi occhi grigi cominciarono a illuminarsi di nuovo. E allora egli rivolse al colonnello la quasi inintellegibile domanda, «Mi perdoni, colonnello, ma quanto tempo fa è morta sua moglie?» «Mia moglie», rispose il soldato stupito, «è morta un anno e due mesi fa. Suo fratello James giunse proprio una settimana dopo, troppo tardi per vederla». Il piccolo prete balzò come un coniglio colpito da una fucilata. «Andiamo», gridò con insolita eccitazione. «Venite, dobbiamo andare a vedere quel poliziotto». Il rupero sull'improvvisato palcoscenico che aveva in quel momento il sipario abbassato, passando oltre la colombina e il pagliaccio che sembrava mormorassero tra loro pienamente felici, e Padre Brown si chinò sul prostrato poliziotto comico. «Cloroformio», disse rialzandosi. «Lo avevo appena pensato». Vi fu un silenzio di stupore. Poi il colonnello disse lentamente. «La prego di volermi dire seriamente che cosa significhi tutto ciò». Padre Brown, improvvisamente, scoppiò in una grande risata, poi si fermò e cercò soltanto di trattenere le risa alla fine del suo discorso. «Signori», balbettò ansante, «non vi a tempo da perdere in Charlie. Devo correre dietro al delinquente». Il grande attore francese che fece la parte del poliziotto, lo straordinario finto morto col quale Arlecchino danzò, gettandolo di qua e di là, era…» Parve che gli mancasse di nuovo la voce, perché si volse per correre via. «Era!», gridò Fisher con autorità. «Un poliziotto vero!», rispose Padre Brown e scomparve correndo nel buio. C'erano, nella parte estrema di quel fronzuto giardino, dei luoghi più bassi e cespugli, dove i lauri e le altre piante sempreverdi si stagliavano contro il cielo di zaffiro e la luna argentea, mostrando i vivi colori del sud persino in quella notte di mezz'inverno. La verde gaiezza dei tentennanti lauri, il ricco color purpureo della notte, e la luna, gigantesca lampada di cristallo, creavano un quadro quasi irresistibilmente romantico. Ora ecco, tra i rami più alti degli alberi del giardino, una figura bizzarra che s'arrampica e appare più oscura che romantica. Essa splende tutta dal capo ai piedi come se fosse rivestita di milioni di lune, e la vera luna l'afferra ad ogni momento e incendia un nuovo pezzetto di essa, che oscilla e brilla ora sull'albero basso del giardino, ora su un albero più alto del giardino accanto, e si arresta tra i rami del nuovo albero quando una piccola ombra appare sotto l'albero più piccolo e par che la chiami. «Ebbene, flambò», dice la voce, «sembrate davvero una stella volante, che infine finisce con l'essere una stella cadente». L'argente a figura splendente in alto sembra chinarsi in avanti tra i lauri e, fiduciosa di poter fuggire, ascolta la piccola figura in basso. «Non avete mai fatto nulla di migliore, flambò. Fu una trovata da uomo molto intelligente arrivare dal Canada, e cioè da Parigi, immagino, proprio una settimana dopo la morte della signora Adams, quando nessuno aveva voglia di far domande. E fu da uomo ancor più intelligente il prender nota delle stelle volanti e del giorno esatto della venuta di Fisher. Poi non si trattò più di intelligenza, ma di vera genialità. Rubare le pietre era per voi una cosa da nulla, l'avreste potuto fare in un centinaio di altre maniere, come un gioco di qualsiasi prestigiatore, anziché ricorrendo alla pretesa di attaccare una coda di carta alle falde dell'abito di Fisher. Ma nel resto avete superato voi stesso». La figura argentea tra il verde fogliame farve indugiarsi, come ipnotizzata, benché la via di scampo fosse facile e guardò fissamente l'uomo di sotto. «Oh sì», disse padre Brown, «so tutto quanto. So che voi non avete soltanto avuto l'idea di fare la pantomima, ma l'avete fatta servire a un doppio scopo. Vi preparavate a rubare tranquillamente le pietre preziose quando vi giunse la notizia da un vostro complice che eravate già stato sospettato e che un abile agente di polizia sarebbe venuto a scovarvi questa sera stessa. Un ladro ordinario sarebbe stato grato dell'avviso e sarebbe fuggito, ma voi siete un poeta. Avevate già avuto l'idea di far sparire i gioielli in uno splendore di gioielli falsi, nella recitazione di una pantomima. Allora pensaste che se l'abito era di arlecchino, la presenza di un poliziotto sarebbe stata parte naturale del gioco. L'abile agente di polizia se ne partì dalla stazione di polizia di Putney per trovarvi e cadde nella più strana trappola che sia mai stata tesa in questo mondo. Quando la porta ad entrata si aprì ed egli camminò dritto sul palcoscenico, in piena pantomima di Natale, fu costretto a essere beffeggiato, bastonato, stordito e cloroformizzato dal danzante arlecchino fra gli scoppi di risa della gente più rispettabile di Putney. Ah, voi non farete mai più alcunché di meglio. E ora, a proposito, potreste anche restituirmi quei diamanti. Il frondoso ramo sul quale dondolava la splendente figura stormì, come di sorpresa. Ma la voce continuò. «Voglio che li restituiate, flambò. Voglio che rinunciate a codesta vita. Avete ancora tanta giovinezza e onore e umorismo, ma non pensiate che dureranno nel vostro mestiere. L'uomo può mantenersi a un certo livello nel bene, ma nessun uomo è mai riuscito a tenersi ad un certo livello nel male. La strada va sempre più in giù. L'uomo buono beve e diventa crudele. L'uomo franco uccide e diventa menzognero. Ho conosciuto più di un uomo che incominciò come voi, come fuorilegge, un semplice ladro dei ricchi e poi finì calpestato nel fango. Maurice Bloom incominciò come anarchico, come padre dei poveri, ma finì come spia untuosa e che ambo le parti usavano e sprezzavano. Harry Burke incominciò a far circolare Danaro con sufficiente sincerità, ma ora vive da parassita a spese di una sorella mezza affamata, succhiandole quel poco che è là per ubriacarsi. Lord Amber frequentò una società equivoca per un certo spirito cavallerisco e ora paga i più vili e avidi ricattatori di Londra. Il capitano Barillon fu il più grande apache gentiluomo prima del vostro tempo. Morì in un manicomio, urlando di paura contro i complici che lo avevano tradito e lo perseguitavano. So che i boschi vi appaiono molto scuri dietro, Flambeau. So che in un batter d'occhio potete scomparire in essi come una scimmia. Ma un giorno sarete una vecchia scimmia grigia, Flambeau. Sederete un giorno nella vostra libera foresta col cuore gelato e la morte vicina e le cime degli alberi saranno aride e brulle. Tutto rimase immobile, come se l'uomo al di sotto trattenesse l'altro sull'albero con un lungo, invisibile laccio. Ed egli continuò. La tua parabola discendente è già iniziata. Ti vanti di non fare mai nulla di meschino, ma questa sera stai facendo una cosa meschina. Stai lasciando sospettare un bravo ragazzo che ha già molte cose contro. Lo stai separando dalla donna che ama e che lo ama. Ma farai cose anche più meschine prima di morire. Tre scintillanti diamanti caddero dall'albero sul prato. La piccola figura si chinò a raccoglierli e, quando guardò di nuovo in alto, la verde gabbia dell'albero non conteneva più l'uccello d'argento. La restituzione delle gemme, raccolte per caso da padre Brown, pensate un po', terminò la serata trionfalmente. E Sir Leopold, di ottimo umore, giunse financo a dire al prete che, per quanto egli stesso avesse vedute più larghe, tuttavia rispettava quelli che dalla loro fede erano obbligati a vivere reclusi nell'ignoranza del mondo. Grazie per l'ascolto. Se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri, puoi fare una piccola donazione su PayPal o Ko-Fi tramite il link che trovi in descrizione. Inoltre, se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro, puoi trovarli anche su Spreaker, Spotify ed Apple Podcast. Grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto. Grazie a tutti.